allora parliamo cominciamo quantomeno oggi l'argomento è il controllo di motori noi parliamo di motori in intervallo di potenza diciamo da qualche watt a qualche kilowatt quindi in modo abbastanza generale e ampio e vedete soprattutto ci concentriamo sull'aspetto relativo al cioè su aspetti di come dire di principio vediamo un attimo di capire come funzionano motori di base e quali sono i principi secondo i quali si controllano allora innanzitutto noi abbiamo due tipi di categorie di motori piuttosto distinte a seconda del tipo di applicazioni abbiamo quelli che chiamiamo servomotori che sono motori utilizzati tipicamente in azionamenti meccanici in robotica industriale tutte quelle volte in cui è importante controllare attraverso il motore con precisione un movimento vogliamo controllare la posizione di un asse oppure vogliamo controllare con precisione la velocità di rotazione di rotazione di un asse in quei casi abbiamo come requisito la richiesta che facciamo motori e di avere risposta rapida e abbiamo bisogno di conoscere con precisione posizione e velocità e o velocità dipende un po' delle applicazioni come dicevo questa è una classe un'altra classe di motori è per applicazioni più semplici diciamo in cui non è così importante avere un controllo preciso della per esempio posizione e velocità dell'asse del motore perché anche per motivi molto semplici perché per esempio il motore serve a controllare un sistema che è molto più incognito il sistema di cui conosciamo molto poco e questi sono motori che vanno che possiamo mettere una categoria di motori a velocità variabile per esempio i motori che utilizziamo in un impianto di condizionamento e compressori ad un impianto di condizionamento per quale motivo abbiamo requisiti inferiori tipicamente nei confronti di questi motori perché per esempio la velocità di risposta è poco importante in quanto poi alla alla fine il sistema in cui il motore è inserito era un tempo di risposta molto più lento di quello del motore e tipicamente una funzione di trasferimento che conosciamo in modo molto molto vago quindi tipicamente questi sono più lenti risposta lenta il sistema è lento e poi tipicamente su questi facciamo soltanto un controllo di velocità quindi facciamo un controllo di velocità e lo facciamo lentamente dal punto di vista del sistema di controllo nelle due cose il sistema di controllo è fortemente diverso vediamo un attimo in che cosa è diverso l'aspetto principale che differenzia i due sistemi è che quando facciamo un servomotore un sistema di controllo per un servomotore in realtà le variabili che controlliamo sono spesso variabili come dire strettamente appartenenti al motore proprietà del motore quindi per esempio se questo è il motore faccio un sistema di controllo a grandi blocchi questo è l'asse e questo è il carico quindi il carico meccanico che il motore muove tipicamente cosa facciamo abbiamo un convertitore di potenza che alimenta il motore a valle convertitore di potenza prende la potenza dall'alimentazione e la fornisce al motore e viene a sua volta controllato dall'uscita di un controllore quindi il controllore dà in uscita le variabili che determinano il comportamento del convertitore di potenza per esempio possono essere le temporizzazioni dei switch in uscita dal controllore va bene quindi il controllore decide dai comandi di accensione e spegnimento di ciascun switch in quel modo la potenza viene convogliata verso il motore e poi che cosa dobbiamo fare in uscita dobbiamo misurare la quantità che vogliamo controllare quindi posizione e o velocità con un sensore portarla al controllore questo è diciamo la variabile di controllo l'input va bene chiaramente disegnata blocchi è un unico sistema in reazione nella pratica si tratta di cose che hanno una funzione abbastanza distinta no? tipicamente questa roba qui avviene in forma digitale dentro un controllore dentro un unico micro controllore il convertito di potenza è un circuito di elettronica di potenza questa parte qua è un circuito meccanico questa è elettronica di potenza e poi c'è un sensore che dovrà fare due operazioni da un lato trasdurre dalla grandezza meccanica alla grandezza elettrica poi convertire la grandezza elettrica in forma digitale e poi trasmetterla con la giusta velocità più o meno tutti questi elementi sono necessari per un controllo servomotore il controllore può essere ad esempio un controllore PD del tipo che abbiamo visto poco fa può essere una cosa più complicata spesso per un motore si usa un PD non c'è bisogno di cose particolarmente complicate la situazione è differente se invece vogliamo controllare un motore a velocità variabile quindi la categoria più lenta che abbiamo indicato prima perché immaginate a questo punto la situazione è abbastanza diversa qui c'è il motore facciamo l'esempio di prima dell'impianto di condizionamento quindi qui c'è l'impianto di condizionamento che viene in questo motore fa una pompa che spinge fluido refrigerante chiaramente dovremo in qualche modo non è necessario che immaginiamo di conoscere la funzione di trasferimento dell'impianto di condizionamento immaginiamo che ce l'abbia non ci interessa conoscere perché poi non ce ne facciamo di molto il carico dell'impianto di condizionamento sarà l'ambiente che viene rinfrescato e poi per verificare lo stato e l'ambiente noi andiamo semplicemente a prelevare con dei sensori per esempio dei sensori indoor la temperatura e l'umidità del sistema quindi andiamo a prelevare delle variabili che non sono variabili del motore che non è cosa fa il motore interessa poco il comando il controllo è essenzialmente sulla temperatura e l'umidità e a monte del motore la situazione è molto simile a quella di prima abbiamo un convertitore di potenza che convoglia la potenza che viene dall'alimentazione al motore e che viene controllato da un controllore da un pezzo di codice che riceve in ingresso il comando e poi riceve i dati dei sensori indoor eventualmente spesso non sempre riceve anche i dati dei sensori sull'esterno temperatura e umidità esterna questo dipende poi da quanto vogliamo fare sofisticato il sistema e poi genera tipicamente le temporizzazioni dei switch cioè in qualche modo impone il valore della per esempio se si tratta di un motore in continua della tensione applicata al motore di nuovo la distinzione rimane quella di prima ripeto ancora una volta nel caso del controllo di un motore a velocità variabile tutti i requisiti di velocità sono molto rilassati perché tanto c'è un sistema l'ambiente che vogliamo riscadrare che avrà un comportamento passabasso molto pronunciato per cui diciamo la velocità delle altre parti del sistema è relativamente poco importante ok come possono essere fatti i motori tipicamente sono tre grandi categorie abbiamo motori in continua un motore a induzione e il motore sincrono motore a induzione detto anche asincrono motore sincrono quindi adesso quello che facciamo vediamo un po' più in dettaglio come ciascun tipo di motore funziona e di conseguenza che come si controlla come vi potete immaginare vediamo soltanto il principio di funzionamento del motore giusto quello che ci serve per capire come viene effettuato il controllo poi in generale un tempo tanto tempo fa esisteva un corso si chiama le macchine elettriche dentro il corso di studio di ingegneria elettronica dove c'era un corso dedicato ai motori potrebbe potrebbe tornare perché con l'importanza che stanno acquisendo motori elettrici effettivamente potrebbe prima o poi ricapitare dunque vediamo un motore in continua il principio funzionamento è molto semplice ve lo spiego a partire dal dall'esempio di motore in continua che si fa a volte come progettino alle medie dunque prendiamo una spira in un campo magnetico alle medie di solito non si sa perché funziona ma insomma ora noi cerchiamo di vedere un po' il funzionamento immaginiamo di avere qua un magnete permanente una spira che ruota intorno a quest'asse questo è un magnete permanente quindi qui c'è un nord e un sud c'è un campo magnetico B che è orientato in questa direzione da nord verso sud ecco poi qua abbiamo bisogno per far funzionare il motore in continua di due spazzole e di una tensione continua che alimenta la spira questo avvolgimento che ruota è il cosiddetto rotore ruota intorno a quest'asse che ho disegnato tratteggiato a che cosa serve questo commutatore queste qui di solito si chiamano spazzole e l'oggetto complessivamente si chiama commutatore siccome il rotore ruota grazie a quel commutatore la parte più a la parte della spira che si trova a destra si trova ad avere sempre la tensione positiva quindi la corrente scorre sempre in questa direzione scorre così e torna di qua perché questa tensione è sempre più alta di questa va bene quindi quando fa una rotazione di 180 gradi il commutatore inverte l'alimentazione alla spira fa sì che sempre il conduttore a destra sia alimentato positivamente rispetto a quella a sinistra e questa è la cosa che fa girare il motore perché in pratica avviene la seguente cosa questo qui c'è una corrente I immaginiamo che sia L questo la lunghezza della spira in questa direzione e voi sapete che c'è una forza che agisce sul conduttore che è L che moltiplica I vettor B d'accordo quindi faccio I B e L una forza che spinge il filo che ho rappresentato verso l'alto quindi lo indico in blu qui c'è una forza che lo spinge verso l'alto e c'è una forza analoga che chiaramente spinge il filo sul lato opposto quindi da questa parte siccome la corrente scorre in questa direzione ho invertito il senso della corrente il campo magnetico è lo stesso quindi la forza viene invertita di segno e va verso il basso vedete? e quindi abbiamo una coppia che fa ruotare l'aspira va bene? gli altri due lati dell'aspira non sono attivi perché negli altri due lati la corrente e il campo magnetico sono concordi nella stessa direzione quindi il prodotto vettoriale è nullo l'aspira ruota c'è una coppia che è massima in quella posizione e si può scrivere chiamiamola T T è F questa forza per beh chiamiamo H l'altro lato è F per H quindi in questa posizione massima perché sono ortogonali tutte le quantità il campo è la corrente ma anche la direzione di F è H e quindi abbiamo in pratica I per B per F per A no I per B per A la coppia fa girare in senza anti-orario e vedete ha sempre la stessa direzione in questa situazione massima poi man mano che l'angolo cambia si riduce la distanza tra i due punti a cui è applicata la forza quindi si riduce la coppia poi c'è un punto in cui la coppia si annulla quando l'aspira è verticale poi quando scatta il commutatore la coppia ritorna nella stessa direzione quindi il motore con questi segni gira come lo vedete voi in senza anti-orario d'accordo? quindi abbiamo la coppia abbiamo abbiamo vediamo che la coppia proporziona la corrente chiaramente se abbiamo più spire abbiamo semplicemente un numero di spire che è a moltiplicare sia la forza sia la coppia d'accordo? quindi questo è il principio di funzionamento in termini più semplici possibili noi dobbiamo però adesso da questo punto ricavare la funzione di trasferimento del motore completo per poi decidere come effettuiamo il controllo d'accordo? ecco questo è l'esempio più semplice che vi ho fatto immaginate dunque se abbiamo n spire avremo t uguale a i a per b per a per n questo qua b per a per n è praticamente vedete b per a è il flusso concatenato con la singola spira nel caso nel caso massimo b per a per n è il flusso concatenato con l'avvolgimento di rotore con tutte le spire questo è flusso concatenato con l'avvolgimento del rotore quindi approssimativamente il flusso concatenato con l'avvolgimento del rotore lo possiamo chiamare F e viene un i a per F d'accordo? questa situazione è molto idealizzata nella pratica diciamo ci sono tanti aspetti che sono differenti cioè il il questa coppia la coppia che si ha in condizioni massime ma in realtà la coppia varia nel tempo gli avvolgimenti non sono tutti esattamente sullo stesso piano quindi il flusso concatenato non è proprio uguale di solito si tiene conto di tutto questo dicendo che la coppia è proporzionale a una scelta costante per i a per phi f quella costante tiene conto di tutti gli aspetti diciamo non ideali che ci sono tutti gli aspetti più che non ideali diciamo tutti gli aspetti che sono diversi da questa rappresentazione semplificata che vi ho fatto d'accordo? quindi prego può cambiare colore non si vede? va bene si faccio nero grazie allora quindi vediamo un attimo la schematizzazione abbiamo il rotore c'è l'avvolgimento del rotore supponiamo che sia questo l'avvolgimento del rotore e c'è il campo magnetico noi chiamiamo phi f il flusso concatenato con l'avvolgimento del rotore e abbiamo la coppia che di solito si indica come coppia elettromotrice che sarà in realtà scritta più tipicamente in questo modo vedete si aggiunge questa costante questa qua si chiama costante di coppia che tiene conto del fatto che come dicevo la coppia dipende dalla posizione che le spire non sono tutte complanariche quindi diciamo ci sono delle variazioni rispetto alla situazione che abbiamo rappresentato prima dal punto di vista invece funzionale direzionale le dipendenze rimangono la coppia è proporzionale alla corrente ed è proporzionale al campo magnetico al flusso del campo magnetico quindi il flusso del campo magnetico dipende dal numero di spire dall'intensità del campo magnetico quindi il magneto che inseriamo e dall'area delle spire sono tutti fattori che entrano dentro phi f quindi questa forza elettromotrice è indotta sull'avvolgimento dell'armatura e chiaramente si trascina il motore se si trascina scusate il rotore se al rotore applichiamo un carico meccanico questo comincia a girare d'accordo? c'è un'altra situazione che è abbastanza frequente quella invece in cui invece di avere un magnete permanente questa è la situazione con una calamita un magnete permanente abbiamo invece un elettromagnete quindi qua non cambia granché per il rotore però qui abbiamo un 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 abbiamo uno statore con un avvolgimento alimentato con una tensione indipendente quindi stavolta il flusso del campo il flusso concatenato con l'avvolgimento del rotore sarà controllato dalla tensione o dalla corrente applicata all'avvolgimento dello statore d'accordo? questo è l'avvolgimento dello statore statore quindi l'avvolgimento di statore è l'avvolgimento del blocco fermo avvolgimento del rotore e l'avvolgimento del blocco che ruota d'accordo ci sono tutte e due le condizioni spesso i motori con magnete permanente si adoperano per potenze più basse motori con avvolgimento di statore si adoperano per potenze più elevate cioè tipicamente sopra kilowatt si va con avvolgimento di statore e come potete immaginare avere un avvolgimento per lo statore introduce un grado di libertà in più perché a quel punto si può modulare anche l'intensità dei capi F con F mentre invece nell'altro caso F con F è fissato una volta per tutte d'accordo? quindi qui segniamo soltanto si può modulare dunque l'altra osservazione che è importante fare è che chiaramente ci sarà una forza elettromotrice indotta sull'avvolgimento del sull'avvolgimento del rotore perché forza elettromotrice questo perché chiaramente vedete la cosa dal punto di vista dell'avvolgimento del rotore l'avvolgimento del rotore è attraversato da un campo magnetico da un flusso di campo magnetico oscillante nel tempo e quindi verrà indotta una forza elettromotrice chiaramente sarà di questo tipo dal punto di vista delle proporzionalità questa forza elettromotrice sarà proporzionale a F F e a omega d'accordo? il flusso sarà modulato con una cosa del tipo F per seno di omega T la derivata del flusso che è proporzionale alla forza elettromotrice avrà un omega fuori quindi sarà in ampiezza sarà del tipo F per omega F anche qui si scrive la cosa introducendo una costante di proporzionalità che si indica con K E e si chiama costante di tensione l'omega chiaramente è la velocità angolare del motore che è anche la velocità angolare quindi la pulsazione della modulazione del flusso del campo magnetico attraverso l'avvolgimento del rotore allora quindi al momento che abbiamo queste poche grandezze stiamo giocando solo con queste il flusso concatenato con l'avvolgimento del rotore la corrente nel rotore la forza elettromotrice indotta sul rotore la coppia e le due costanti d'accordo? ora c'è una considerazione abbastanza facile da fare che riguarda la potenza meccanica e la potenza elettrica perché dal punto di vista della potenza meccanica e della potenza elettrica che cos'è che potete dire? beh avete una coppia avete una velocità di rotazione e quindi il prodotto e la coppia per la velocità di rotazione è la potenza meccanica che è in grado di erogare il motore quindi avete che il motore esercita una potenza su un carico eventualmente fornisce una potenza meccanica un carico pari a la coppia per omega e quindi sarà kt per phi f per i a per omega e se guardate la potenza elettrica assorbita dal rotore potenza elettrica assorbita da rotore e sarà la tensione a capi di avvolgimento del rotore per la corrente nell'avvolgimento del rotore d'accordo? quindi qui avremo k e per phi f per omega per i a i primi tre pezzi sono e a questo è e a quello che dovreste notare è che in assenza di perdite queste due potenze devono essere uguali tutta la potenza elettrica che assorbe il rotore viene trasformata in potenza meccanica che viene fornita dal rotore dall'asse del rotore a un carico d'accordo? se trascuriamo tutti gli elementi di perdita deve essere per forza così la potenza non sparisce potenza attiva viene trasformata in potenza meccanica quindi in assenza di perdite vedete quindi in pratica guardate l'espressione sopra e l'espressione sotto sono già molto uguali perché in pratica tutti i termini sono uguali tranne che abbiamo kt nella potenza meccanica e ke nella potenza elettrica quindi in assenza di perdite kt deve essere uguale a ke e questo garantisce che la potenza elettrica sia uguale alla potenza meccanica ovviamente in presenza di perdite la potenza meccanica sarà minore della potenza elettrica quindi kt sarà minore di ke perché una parte di energia se n'è andata in perdite che in dissipazione per effetto Joule prevalentemente in attrito principalmente com'è che possiamo provare a quantificarli quegli aspetti innanzitutto guardiamo un circuito equivalente dell'avvolgimento del rotore io posso schematizzare la cosa in questo modo vedete io posso schematizzare il rotore così ho una forza elettromotrice indotta il generatore della forza elettromotrice indotta è questo qua e poi posso schematizzare l'avvolgimento del rotore con una resistenza serie e un induttanza serie quindi la tensione che viene applicata all'avvolgimento del rotore è questa V qui e questa è la situazione ora c'è un passo logico abbastanza evidente perché noi dobbiamo dovete tenere presente questa cosa che c'è un commutatore di mezzo il motore è in continua però in pratica la tensione che viene applicata all'avvolgimento del rotore è una tensione a onda quadra d'accordo il motore gira e quindi i contatti sono messi così e così una volta così dopo mezzo giro così poi ritorna alla situazione iniziale e così via quindi viene applicata un'onda quadra allora per semplicità dell'onda quadra noi teniamo conto soltanto della prima armonica quindi ragioniamo soltanto come se avessimo un'onda sinusoidale immaginiamo che tutte le armoniche superiori in qualche modo spariscono tutte vengono attenuate filtrate via ok quindi non ci sono allora noi qua possiamo ragionare sul rotore sul come dire a valle del commutatore quindi ragioniamo come se avessimo a che fare con tensioni e correnti alternate ok oppure ragioniamo a monte del commutatore quindi ragioniamo come con le correnti e le tensioni come viste da prima del commutatore allora quel circuito li vale per la continua d'accordo quindi questo è il ragionamento che possiamo fare a valle del commutatore tutte le grandezze che sono a monte vengono alternate a monte del commutatore tutte le grandezze che sono a valle si fa il modulo ok quindi per esempio io se ragiono a monte del commutatore di questo io ragiono con un circuito continuo dove però al posto di quindi al posto di v c'è la tensione continua che applica al rotore al posto di A c'è una tensione continua pari al modulo della forza elettromotrice indotta per l'induttanza la cosa è un pochino più complicata facciamo conto che comunque il contributo di quell'induttanza LA che è un'auto induttanza praticamente di perdita che non rappresenta l'accoppiamento dell'avvolgimento di rotore con l'avvolgimento dello statore l'auto induttanza e l'avvolgimento di rotore immaginiamo poterla trascurare d'accordo quindi questa la trascuriamo quindi giusto per capirsi a valle del commutatore abbiamo no a valle abbiamo un'alternata V è un'alternata poi abbiamo qua RA e qui abbiamo la tensione alternata a frequenza omega ok omega la pulsazione omega la stessa cosa la pulsazione omega la pulsazione è data dalla velocità di rotazione dell'asse a monte del commutatore abbiamo invece una tensione continua la solita resistenza e qui abbiamo un generatore che possiamo metterla così una e a d'accordo perché a monte del commutatore viene raddrizzato anche a va bene è chiaro questo punto lo sottolineo un po' di più del solito visto che causa qualche incertezza quindi io qua scrivo V uguale RI A più EA poi devo ricordarmi se sono in questa situazione o in questa l'espressione è praticamente la stessa in tutte e due i casi allora l'altro aspetto che bisogna consigliare è che la coppia come dire non viene tutta trasferita al carico ma ci sono due componenti importanti cioè una componente che è tipicamente di attrito questa è la coppia che viene trasferita al carico quindi coppia trasferita al carico una parte questo B per omega se ne va in attrito come al solito l'attrito dal primo ordine è proporzionale alla velocità quindi l'attrito le componenti di attrito sulla coppia è proporzionale alla velocità angolare componenti di attrito su una forza lineare ovviamente proporzionale alla velocità lineare e più c'è una componente dovuta al momento di inerzia questa non è perdita perché viene accumulato in energia cinetica da parte del corpo che ruota quindi J è il momento inerzia dell'asse del motore eventualmente anche del carico e omega primo è l'accelerazione angolare quindi la parte che va persa in perdita è questa e questa qua questi sono gli elementi di perdita perdita e perdita e sono quegli elementi che fanno sì che la costante di coppia sia inferiore alla costante elettrica d'accordo ok avanti vediamo prima di ottenere la funzione di trasferimento in condizioni stazionarie quindi abbiamo queste due relazioni qui noi facciamo riferimento a questo circuito lo guardiamo a monte decomutatore decomutatore abbiamo v uguale a r a per i a più e con a e adesso metto relazione alle quantità che ho trovato prima quindi al posto di i a mettiamo la coppia quindi r a per t e m diviso k t per fi f e al posto di i a mettiamo più k e fi f per omega in questo punto se per esempio l'uscita per noi è la velocità angolare possiamo esplicitare il tutto rispetto a omega e viene 1 su k e per fi f diviso v meno ra per t e m diviso k t per fi f quindi quindi abbiamo alcune quantità che sono fisse e altre quantità che variano in particolare le quantità che variano sono v che possiamo variare ed è con v che noi effettuiamo il controllo del motore t e m la coppia e l'uscita è la velocità angolare allora quello comunque c'è forse un'altra cosa che riesco a vedere adesso dunque sì volevo farvi vedere questo notate qua la cosa che t e m è concorde con i a e e a e concorde con omega questa cosa la scrivo nel prossimo segno vedete il segno della coppia è concorde con il segno della della corrente il segno della forza elettromotrice indotta è concorde col segno della omega ma perché questo aspetto è importante perché vedete io sono in questa situazione se se vario v immaginiamo che la velocità sia in una direzione e immaginiamo di avere una ea positiva se a un certo punto vario v in modo che la v sia minore della ea mi trovo una situazione in cui la corrente va nell'altra direzione d'accordo se la corrente va nell'altra direzione quindi cambia segno mi trovo ad avere una coppia negativa quindi una coppia negativa vuol dire che sto frenando quindi com'è che esercito il comportamento da motore e il comportamento da freno se v è maggiore di ea la corrente scorre nella direzione indicata e quindi esercito il comportamento da motore se v è minore di ea esercito il comportamento da freno perché la corrente esce questo che cosa vuol dire che ho energia meccanica che viene trasformata in energia elettrica il generatore v assorbe corrente quindi assorbe potenza elettrica e quindi sto facendo da in realtà freno generatore frenando raccolgo energia elettrica questa cosa vale in una direzione vale anche nell'altra direzione se ea è negativo e v è negativo ma di modulo maggiore di ea la corrente scorre nell'altra direzione mi troverò una omega negativa e una coppia negativa quindi il motore funziona ma nell'altro verso ok quindi ricapitoliamo questo ragionamento dunque ra ia più ea poniamo omega maggiore di zero ed ea maggiore di zero se v è maggiore di ea i a è maggiore di zero ho un motore quindi trasformo energia elettrica in energia meccanica se v è minore di ea allora mi trovo ad avere una ia minore di zero e ho un freno perché la coppia è maggiore di zero quindi è concorde col verso della velocità in questo caso mi trovo tm minore di zero quindi la coppia in senso opposto rispetto alla velocità angolare quindi che tende a frenare ripeto durante il funzionamento da freno il generatore che alimenta il rotore assorbe corrente e quindi assorbe potenza se omega è minore di zero vale lo stesso discorso avrò un ea minore di zero a questo punto se v è minore di ea avremmo ia minore di zero che vuol dire comportamento da motore in questo caso perché la coppia è negativa e quindi è concorde con la velocità di rotazione dell'asse se v è maggiore di ea invece abbiamo ia maggiore di zero e un freno nell'altra direzione perché la coppia è positiva quindi questa cosa si rappresenta bene anche su un piano omega tm questo è il comportamento da motore questo è il comportamento da motore questo è il comportamento da freno questo è il comportamento da freno per essere precisi questo è un freno generatore perché l'energia perché la potenza che viene sottratta al al carico meccanico viene trasformata in almeno in linea di principio viene trasformata in potenza elettrica che può essere assorbita dal generatore quindi se è in grado di assorbirla e accumularla il generatore si può caricare quindi qui ho ea maggiore di 0 e ia maggiore di 0 qui avrò ea minore di 0 e ia minore di 0 qui avrò ia maggiore di 0 ed ea minore di 0 e qui avrò ea maggiore di 0 e ia minore di 0 su 4 quadrati perché è importante tenere presente questo aspetto a parte per il fatto che abbiamo visto in linea di principio un motore in continua può funzionare in tutte e due le direzioni e come motore e come freno in secondo luogo il convertitore di potenza che alimenta il rotore deve poter erogare tensione con tutte e due i segni e corrente con tutte e due i segni questo è un po' nelle condizioni cioè dei requisiti abbastanza stringenti al convertitore di cdc diciamo in continua che alimenta il motore in continuo che deve essere in grado di erogare corrente con entrambi i segni se vogliamo poter sfruttare questa possibilità del motore e tensione corrente con entrambi i segni chiaramente non è indispensabile sfruttare questa capacità del motore ma diciamo che in generale l'uso principale che si fa del motore in corrente continua è quello di sfruttare questa cosa quindi di solito se si usa un motore in corrente continua che è tipicamente un po' più costoso degli altri tipi di motori è perché si vuole cercare di sfruttare il fatto di poter avere la rotazione in tutte e due le direzioni e si vuole sfruttare il freno generatore quindi non è un aspetto marginale e poi dal punto di vista dell'uso è il motivo principale per cui per un particolare progetto si sceglie di usare un motore fatto così ok continuiamo su questo argomento mercoledì e ora ci fermiamo grazie a tutti